alla sua sesta stagione in Maglia Sir con 140 partite disputate dal 2013 ad oggi è in vetta alla classifica di rendimento punti individuali di tutta la superlega italiana con 2464 punti e 912 break point Alexander Atanasievic ieri sera in diretta negli studi di Tef Channel per la puntata di sottorete a cavallo tra il big match di campionato contro Modena e la Final Four di Coppa Italia incarna perfettamente l'essenza della Sir determinazione testa fissa sull'obiettivo voglia di crescita costante e passione tanta passione ma non solo il re di Perugia così lo chiamano i tifosi rappresenta anche un esempio lampante di quella che quest'anno è l'arma più letale della Sir l'opposto e serbo che aveva raggiunto l'apice del suo rendimento al servizio lo scorso anno con 50 ace in 26 partite quest'anno con 56 ace quando siamo ancora alla settima giornata di ritorno ha già raggiunto la sua miglior stagione di sempre non ho pensato sinceramente di questa cosa noi stiamo allenando la battuta tutti i giorni minimo mezz'ora al giorno facciamo solo la battuta perché abbiamo capito che quello è la cosa che ci fa vincere le partite anche giocando male quando uno di noi va a servizio facciamo break point dalla battuta e dopo tutto viene molto più facile ma la vera forza del grande atleta e grande uomo è pensare a fare il bene per la squadra e non per le statistiche individuali sono pronto a firmare adesso di fare un punto sabato ma vincere uguale non importa chi gioca bene è importante vincere le partite sono sicuro che anche sabato con l'atteggiamento giusto possiamo sperare di vincere e alla vigilia della final four di coppa italia in cui la sir si gioca l'accesso alla finale proprio con l'azimut modena che si era guadagnata l'accesso tra le fantastiche quattro battendo milano tre a uno a tana sievic alle idee ben chiari come dice loro finali non si giocano si vincono allora adesso andiamo proviamo andare in finale e vincere di nuovo trofeo non sarà facile perché abbiamo tre squadre davvero forte ma siamo là per provare rotare fino a fine grazie